Gianfra, abbiamo perduto un mito, una leggenda di questa sardina, un simbolo per noi sardos. E te mi poter narrare tu, per Gigi Riva, e carichi onto e dei successi in che inizio? Onto il Bindan Medas, no, però... La realtà è che io quando cominciavo a giocare a pallone, perché il mio padre mi piaceva da giocare a pallone, da Minored, e il mio padre non ha mai a pallone, se lo ripedia su pallone rotondo o quadrangolare non ti riesci a andare. Però ho cominciato a giocare, ho cominciato questa passione sul calcio, su Cagliari, Gigi Riva, e poi questa passione me la dà a Mim, e poi ho cominciato da Minored, e poi questa passione mi è caduta, e quindi queste sono cose importantissime, sono delle origini, bisogna riconoscere il valore di certe persone e aumentare Gigi sui valori importantissimi.